La produzione integrata è nata negli anni 70 per contrastare un uso eccessivo dei prodotti chimici in agricoltura. Questo ha richiesto degli studi molto importanti e uno sforzo significativo da parte del sistema produttivo. La produzione integrata ha introdotto un concetto ancora più ampio di quello che è la sostenibilità ambientale, ha introdotto un concetto che è quello della sostenibilità. I caposaggi della sostenibilità sono l'economicità, l'ambiente e gli aspetti sociali. Da questo punto di vista la difesa integrata e la produzione integrata hanno sposato questa linea fin dai primi albori, cioè dalla fine degli anni 70, allorché ha introdotto soluzioni rispettose dell'ambiente e funzionali alla salva guardia della salute dell'uomo in termini di consumatore e di produttore. È un metodo di produzione diverso rispetto al biologico che si colloca a livello intermedio in termini di sostenibilità fra la produzione convenzionale e la produzione biologica. È una produzione che vanta una grande tradizione nel nostro paese perché è fondamentalmente da più di 30 anni che la produzione integrata è presente e l'Italia si è caratterizzata da sempre per avere un'ortofrutta da produzione integrata. Il biologico ha avuto un'attenzione maggiore perché è stato promosso in maniera diversa ed è anche molto più chiaro per il consumatore. Il consumatore lo conosce molto di più. Noi siamo nati come certificatori delle produzioni biologiche, però ci siamo accorti e abbiamo visto che c'è la produzione integrata che ha avuto un grosso successo dal punto di vista produttivo ma sfortunatamente non è molto valorizzata dal punto di vista commerciale. Quindi noi abbiamo creato questo appuntamento a cui partecipano tutti i protagonisti della filiera dagli agricoltori fino alla distribuzione per cercare di capire come si può dare valore a questo sforzo produttivo veramente importante. Abbiamo ottenuto in questi anni dei grossi risultati. Abbiamo oggi una normativa a livello nazionale messa a punto dall'UNI che è l'ente di normazione italiano. Abbiamo diversi progetti che vanno avanti quindi è un discorso di cui siamo molto soddisfatti. Quest'anno facciamo un passettino oltre perché noi cerchiamo di aggiungere a questo discorso della produzione integrata anche tutto il discorso dei gas R, quindi del controllo delle emissioni su cui peraltro lavoriamo e abbiamo dei progetti con delle università. CCPB è un organismo di controllo e certificazione che fin dal 1998, al di là del biologico che lo caratterizza, ha iniziato a certificare la produzione integrata. Da prima con una propria norma e successivamente spostando lo schema di certificazione dalla propria norma come CCPB alla norma 1.11.233. Questo proprio per dare garanzia, per dare valore, per avere uno strumento di valorizzazione nei confronti del consumatore. Noi lavoriamo nel biologico, siamo dei grandissimi sostenitori di queste produzioni, però realisticamente ancora non è possibile farlo dovunque. Il discorso integrato è molto importante perché può riguardare invece la totalità della produzione e noi dobbiamo dire che molte aziende che oggi fanno biologico hanno iniziato facendo produzione integrata. Dobbiamo da questo punto di vista essere particolarmente soddisfatti. L'Italia ha avviato l'applicazione della produzione integrata a partire, come dicevo, dagli anni 70 e in maniera strutturata a livello nazionale dalla seconda metà degli anni 90. Abbiamo un sistema nazionale di qualità che è stato definito e codificato in una legge nazionale, ma l'Unione Europea ha reso obbligatorio dal 2014 su tutto il territorio dell'Unione Europea l'applicazione della difesa integrata. E per noi questo è un grande orgoglio perché possiamo dire di aver introdotto prima di altri questa soluzione. Per cui noi ci stiamo preparando a questa prospettiva futura, prevedendo che la difesa integrata possa essere applicata su tutto il territorio italiano, così come avverrà sull'Unione Europea, e potremo andare a dire che noi abbiamo introdotto prima questa soluzione e potremo anche andare a dire che in Italia avremo una soluzione di difesa integrata avanzata che sarà quindi di un livello, di un gradino superiore ancora allo standard europeo e quindi un valore sul quale noi confidiamo e speriamo si possa sviluppare un'adeguata valorizzazione delle nostre produzioni. Grazie a tutti.